Nel 1995 uccise la sorella, figlia di uno storico boss mafioso del Catanese legato a Cosa Nostra, perché tradiva il marito con esponenti del suo clan e di uno rivale. La Corte d'Assise di Catania ha condannato all'ergastolo Alessandro Alleruzzo, figlio dello storico capomafia deceduto di paterno Giuseppe, per l'omicidio della sorella Nunziatina, assassinata con due colpi di pistola il 30 maggio del 1995. A permettere di ricostruire la dinamica e il movente del cold case mafioso sono state l'inchiesta della DDA di Catania e le indagini dei militari dell'arma della compagnia di paterno dopo le rivelazioni di tre collaboratori di giustizia. I resti della donna furono trovati il 25 marzo 1998 dai carabinieri della compagnia di paterno al seguito di due telefonate anonime. Per l'omicidio della sorella Alessandro Alleruzzo, 48 anni, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai militari dell'arma il 4 giugno 2021. Ad alcuni compagni di prigione quando era detenuto aveva confidato di avere sparato due colpi di pistola in testa a Nunziatina e di averne poi trascinato il corpo e di averlo buttato in un pozzo per riscattare l'onore della famiglia. Alessandro Alleruzzo è il figlio del defunto boss Giuseppe che negli anni 70 e 80 guidava il gruppo di paterno di Cosa Nostra al centro di sanguinose faide mafiose legato alla famiglia Santa Paola di Catania. E anche cugino di Santo Alleruzzo, 68 anni, noto come la vipera, ritenuto il regente del clan fino al suo ultimo arresto avvenuto nell'ambito dell'operazione sotto scacco della DDA di Catania.